La notizia è questa, il campo largo, in pratica tutti i partiti che non fanno parte del centrodestra, diciamo per la precisione ad eccezione di Italia Viva di Renzi che ha lasciato libertà di voto ai propri elettori ritirando i propri candidati. Insomma comunque il cosiddetto campo largo sia il centrosinistra più il Movimento 5 Stelle riesce a perdere le elezioni in Liguria. Elezioni che, attenzione, non dimentichiamo se siano rese necessarie dopo uno scandalo nel quale è stato implicato il presidente della regione, la rappresentante del centrodestra che ha dovuto dimettersi proprio a causa dello scandalo. Certo, la sconfitta è di misura, ma è senza dubbio clamorosa. Clamorosa soprattutto perché non più tardi di un mese fa il centrosinistra era stimato dai sondaggisti in vantaggio addirittura di 10 punti percentuali. Insomma un vantaggio che lo metteva al riparo da qualsiasi sorpresa. E oltretutto stiamo parlando di una regione che, insomma, tradizionalmente votava a sinistra. Com'è potuto accadere una cosa simile? Beh, il primo pensiero è avranno sbagliato il candidato, ma non è così. Per il centrosinistra Andrea Orlando era certamente la figura di maggior spicco, colui che aveva, diciamo, la maggior probabilità di affermarsi in questa disputa. Un ligure che ha ricoperto più volte cariche ministeriali, quindi, insomma, di altissimo livello. Persona non considerata divisiva e soprattutto che, per accettare appunto la candidatura, ha preteso che si formasse questo campo largo. Insomma, sembrava una vittoria annunciata per il centrosinistra. Tuttavia, anche il centrodestra è riuscito a mettere in campo il suo miglior candidato, cioè Stefano Bucci, il sindaco di Genova. E torniamo, insomma, a cercare quindi le cause di questa, che, insomma, possiamo tranquillamente definire una debacle del centrosinistra. Obiettivamente una causa è senza dubbio la scarsa, scarsissima affluenza alle urne, che si è fermata al 46%. Quindi stiamo parlando di oltre sette punti percentuali in meno rispetto alle scorse elezioni regionali. E allora chiediamoci, chi non è andato a votare? Ebbè, la risposta è una. Gli elettori del Movimento 5 Stelle. Il partito di Conte, o meglio, di Grillo, ma comunque, insomma, fate voi, non arriva al 5%. E allora, dopo il termine debacle, come possiamo definire questo risultato? Anche il termine crollo ormai non descrive appieno la moria di voti. Tuttavia, guardate, per me non è assolutamente una sorpresa. Certamente avrà influito anche quest'ultima diatriba che si è accesa in questi ultimi giorni e che ha riguardato appunto i due personaggi, diciamo, più in vista del partito, cioè Conte e Grillo. Ma comunque, per il Movimento 5 Stelle, l'ingloriosa fine è ed era inevitabile. Da questo punto di vista, quindi, io do assolutamente ragione a Grillo. È lui ad aver fondato, su certi presupposti, su certe basi, il Movimento 5 Stelle e ora che il Movimento è diventato qualcos'altro, ora che ha perso lo spirito per il quale era nato, beh, sta ancora a Grillo la facoltà di dichiararne l'estinzione. Oddio, guardate, che a mio parere Grillo aveva fondato un movimento al quale, dopo tutto, aveva aderito una cozzaia di persone senza arte né parte, non si poteva ottenere nulla di buono da persone, diciamo, lo devo dire, totalmente ignoranti e non solo prive di esperienza. L'esperienza 5 Stelle era quindi risultata fallimentare, ma fin dalla sua genesi. Quindi, personalmente, insomma, lo ribadisco, ormai da parecchio tempo non poteva che avere una fine ingloriosa. Io mi domando tuttora come mai il Movimento 5 Stelle continui a ricevere un numero così considerevole di voti. Evidentemente veniva votato, viene ancora votato, forse da persone meno abbienti, categoria che in Italia purtroppo è in forte espansione, che votano ancora i 5 Stelle sperando di contare sul reddito di cittadinanza. Allora, guardate, cari ascoltatori, sono costretto ancora a chiarirlo. Guardate che, a mio parere, tutte le persone in difficoltà economiche vanno assolutamente aiutate. Guai se non fosse così. Ma è chiaro che il reddito di cittadinanza non è lo strumento corretto, perché di fatto ha spalancato le porte a furbastri, a truffatori. Insomma, non parliamo delle trovate ridicole come i tutor. Oggi il Movimento 5 Stelle oltretutto paga anche la sua seconda, seconda dopo il reddito di cittadinanza e per me ancora più drammatica iniziativa. Naturalmente mi riferisco allo scriteriato super bonus 110%, il più grande sperpero pubblico dell'Italia repubblicana. una follia totale che ha dimostrato, se ancora naturalmente ce ne fosse stato bisogno, che mandare al governo persone totalmente ignoranti, perlomeno in campo economico certo, ebbene si possono produrre in questo modo solo disastri. Disastri che poi come sempre vengono scaricati sulle spalle dei cittadini lavoratori. Ora occorre capire dove andranno a finire i voti di questo movimento in continuo dissolvimento. Per il momento sembra che finiscano nell'astensione, ma naturalmente alcuni elettori pentastellati torneranno alle urne anche quando non esisterà più il simbolo delle cinque stelle. E allora ecco, magari il nostro panorama politico potrebbe anche subire uno scossone. Insomma, torniamo alle elezioni odierne per ricordare che a breve andranno al voto altre due regioni, il 17 e 18 di novembre infatti andranno alle urne i cittadini di Emilia Romagna ed Umbria. Per quanto riguarda il centrodestra per queste prossime elezioni non ci dovrebbero essere novità di sorta, non sarà così invece per quanto riguarda il centrosinistra perché inevitabilmente l'esito del voto in Liguria dovrà far riflettere soprattutto il Partito Democratico perché la debolezza del Movimento 5 Stelle potrebbe infatti rendere più problematica anche la composizione della coalizione che dovrà sostenere il candidato alla presidenza della regione. Poi un'ultima considerazione da statistico devo fare i miei complimenti davvero vivissimi alle società che hanno curato le proiezioni di voto in una votazione che poi alla fine si è conclusa con una differenza di poco superiore al punto percentuale tutte le società hanno perfettamente centrato le previsioni fin dagli exit poll quindi insomma ripeto da statistico vi dico non era per nulla facile quindi i miei complimenti sono doverosi a